Futuro e soluzioni possibili per la soppressione del passaggio a livello di Anconetta. Questo è l'obiettivo dell'incontro tra sindaco, RFI e comitato dei residenti di un quartiere da anni diviso dai binari. Io ho convocato un tavolo con RFI per capire lo stato dei fatti rispetto a tutte le idee che abbiamo ascoltato nel dibattito politico. Ho chiarito che i protagonisti del tavolo devono essere sicuramente gli enti istituzionali, quindi il comune, la regione ed RFI che poi ci mettono anche le risorse. Abbiamo chiesto ai comitati di quartiere di partecipare perché deve essere comunque lo sviluppo di una progettazione condivisa con il territorio. E ho chiesto del RFI già da alcune settimane di mettere a confronto tutta una serie di ipotesi che abbiamo visto in questi anni per capire i pro e contro la fattibilità tecnico-economica, tutto quello che serve, per poi portarlo in quartiere e condividere una scelta appunto con il quartiere. Sovrappasso o sottopasso stradale dall'interramento ferroviario relativo al passaggio a livello della linea Vicenza-Schio in viale Trieste-Anconetta, ipotesi più volte ribadita dai residenti perché considerata meno impattante all'ipotesi del cavalcavia. Sul tavolo di discussione le criticità di ogni soluzione. Le soluzioni sono quelle che o sotto le auto o il treno o sopra il treno o le auto, queste non è che ci siano molte soluzioni. Lei sa benissimo che io sto spingendo moltissimo per portare sotto il treno il passaggio a livello. Speriamo che poi fra un mesetto come se si è concordato di ritrovarci e vediamo queste quattro soluzioni. Obiettivo trasparenza insomma e noi di Rete Veneta vigileremo affinché le istanze dei cittadini vengano ascoltate. Grazie.